A voi è un ottimo momento per la squadra, avete guadagnato una posizione in classifica, dove vuole arrivare questo Pescara? Niente, noi lavoriamo partita dopo partita e cerchiamo di dare tutto in allenamento per poi provare ogni domenica a tirare il miglior risultato della partita. A fine marzo vedremo dove staremo in classifica e speriamo di restare sempre lì. Hai fatto parte di gruppi vincenti, a Trapano in particolare, hai sfiorato la promozione in Serie A, poi c'è stata la promozione dalla C alla B, vedi delle caratteristiche di quei gruppi anche in questo? Sì, vedo un gruppo sano, un gruppo che ha voglia di lottare, di sudare la maglia, di correre e quindi questo poi alla lunga si spera che ci porti grandi risultati. Ecco, dal punto di vista personale hai superato un po' le difficoltà legate all'infortunio, ora stai guadagnando una condizione che ti permetterà di essere più costante in campo? Sì, sì, sono partito in ritiro con l'Avellino, poi appena sono arrivato qui a Pescara purtroppo mi sono fatto male, però adesso sto bene, cerco di dare sempre il massimo, di mettermi a disposizione del gruppo, del Ministro, di essere sempre disponibile in qualsiasi momento e cerco di farmi trovare sempre pronto. Se non sbaglio tu sei di merito di Portosalvo e quindi dalla parte opposta guardi Messina, per te sarà una sorta di derby quello di domenica prossima? Assolutamente sì, giustamente noi da regina abbiamo una rivalità e spero di spuntarla. Senti, però il campionato ha detto finora che il Pescara ha sofferto proprio queste partite, con la Gelbison, il pareggio con il Monterosi, cioè squadre che magari si chiudono e in casa fate un po' fatica. Sì, giustamente loro vengono qui magari anche per racimolare il punto che per loro giustamente a Pescara fare un punto è d'oro, quindi noi dobbiamo avere calma, pazienza e tanta gestione palla per poi essere bravi a trovare il passaggio giusto per andare a concludere e magari alla prima occasione fargli male. Anche se poi Auteri, qui insomma lo conosciamo, immagino anche tu lo conosca, non è un tipo da barricate? No, il mister giustamente da quello che lo conosco ovviamente non ci ho mai lavorato insieme però so che gli piace giocare la palla, che tiene sempre un'intensità molto elevata quindi dobbiamo un attimo essere bravi magari a capire i loro punti deboli che in settimana valuteremo e fargli male il prima possibile. Senti, l'ultima, il mister vostro Colombo cerca di lavorare anche sull'aspetto mentale perché sarebbe facile pensare a Pescara-Cadanzaro ma ci sono due partite e lui ha già lanciato un monito. Voi pensate a Pescara-Cadanzaro? Assolutamente no, questo è un grandissimo errore se già si pensa a Pescara-Cadanzaro. Ovviamente abbiamo due step importantissimi che poi ci permetteranno di arrivare a quella partita in una maniera magari diversa, però come ripeto dobbiamo essere bravi a domenica a tirare fuori i tre punti. Grazie. 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 Grazie.